Buongiorno ragazzi, è un po' che mancavo con i video del tornio, benvenuti nel mio garage questo vi faccio vedere il mio nuovo progetto, ultimo progetto realizzato e l'ho voluto fare perché avevo intenzione di modificare l'albero motore del Piaggio Energy non è stato dimenticato, ma siccome che la biella era da cambiare perché ballava si muoveva troppo e nello smontarlo, io ho provato a smontarlo con la pressa è venuto fuori un lavoro da cane, praticamente si è rigato dentro tutto vi faccio vedere, il perno si è rigato, era quasi inutilizzabile mi è venuto in mente di provare a fare un attrezzo con il quale sia possibile spostare avanti e indietro, spostare la posizione originale del foro del perno di biella in modo tale da poter saldare questa parte interna, riempirlo di acciaio, di ferro, quello che è e poi spostarlo leggermente indietro per accorciare la corsa dell'albero motore la biella rimane invariata, quindi io avrei una corsa più corta questo mi era venuto in mente e ho voluto provare a farlo ed ecco lo risultato, lo faccio vedere in anteprima con una piastra bloccata sul plateau del tornio è guidata tramite un pezzo di acciaio dietro saldato adesso qua non si vede bene perché è buio questo è in grado di spostarsi e di essere regolata tramite questi registri uno di qua e uno di là adesso è perfettamente centrata neanche un decimo gira quindi questo è a 3 cm io poi allenterò le viti e queste viti tramite rimane fisso perché c'è dietro questa linguetta d'acciaio che lo tiene lì scorre attraverso queste cave delle griffe io andrò a modificare per ogni giro questa vita si sposta in maniera più in dentro o più fuori cioè io posso allungare, accorciare, spostare il centro del foro praticamente, il foro centrato da questa parte o dall'altra parte e quindi saldando io posso fare dopo col tornio vado dentro con un utensile sposterò la corsa dell'albero motore se mi interessa ragazzi prossimamente vedrete tutti questi video di come ho fatto questa piastra questa piastra che ho comprato in acciaio e poi vedremo se riesco a fare quello che ho intenzione cioè di spostare il perno di biella nell'albero motore del Piaggio Due Tempi e magari se riesco andrò anche ad appesantirlo sempre con l'acciaio e poi voglio anche tornirlo meglio perché è fatto veramente male comprerò poi una biella nuova e non rinviello quindi sarà come un albero più o meno un albero a spalle piene ma di corsa più corta ragazzi vi ringrazio iscrivetevi al canale ci vediamo ringrazio di quelli iscritti e quelli che mi seguono ciao a tutti ci vediamo poi per il lavoro della piastra degli alberi motore Due Tempi ciao